Nonostante il fatto che San Francisco è una delle città più importanti del mondo, credo che la Copa America può dare una spinta in più per la città, perché questa Copa America, a parte delle altre, sarà una Copa America molto innovativa, le barche sono catamarani, saranno capaci a fare velocità di oltre 50 km all'ora, la vella più importante è una alla invece di una vella, e la competizione sarà molto intensa, perché la baia è abbastanza piccola, quindi la tattica sarà molto veloce, e questo sarà un evento della vella diverso di tutte le altre, e credo così possiamo attaccare un pubblico molto più ampio.